Sono Alessandra, vengo da Verona, ho lavorato sette anni a Presaporto in provincia di Bergamo al ristorante da Vittorio, dal chef Chico Cerea nel laboratorio di pasticceria. Ho deciso di frequentare il posto di gelateria per arricchire il mio bagaglio culturale, per approfondire questo tema che mi interessava molto. Io ho scelto Castalimenti e tu?